Tutto sembrerebbe presagire a una vittoria, peraltro schiacciante, segno di un lavoro fatto in questi cinque anni che è stato molto apprezzato dai cittadini e questa è la cosa che più di tutte mi rende felice e orgoglioso. Ci sono tanti motivi per i quali essere felice, oltre che emozionato. Uno è sicuramente quello di cui parlavo. Cinque anni fa in tanti hanno dato fiducia alla mia persona, a prescindere dal lavoro che si sarebbe fatto. Invece oggi c'è un elemento in più. Oggi non solo la fiducia è stata rinnovata, ma è stata rinnovata anche e soprattutto per l'ottimo lavoro che è stato fatto da me come sindaco e dalla coalizione di centrodestra. Mi sento peraltro di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito. Non solo la mia famiglia che mi ha supportato quotidianamente, ma anche i tanti amici, i cittadini che mi hanno rinnovato la fiducia. Voglio menzionare oggi in modo particolare tutta la struttura comunale, i dipendenti del Comune, i dipendenti dell'azienda speciale, che sono stati veramente incommiabili, soprattutto in un periodo in cui la nostra vita è stata stravolta dal Covid. Noi abbiamo dovuto superare degli ostacoli che mai ci saremmo immaginati di dover superare, ma lo abbiamo fatto alla grande. La città ha risposto molto bene e oggi la nostra Montesilvano è sotto gli occhi di tutti. Non è la città dormitorio di cui si parlava, non è una città spenta, ma una città oltremodo viva, attrattiva da un punto di vista turistico. Tanto c'è da fare, tanto abbiamo fatto e sono contentissimo di poter continuare un percorso, come ho detto, in queste settimane di campagna elettorale. Peraltro, un altro dato, dopo 20 anni c'è un sindaco che riesce a continuare un secondo mandato e questo è un altro dato di cui vado orgoglioso e che voglio condividere con tutti. È stato un grandissimo lavoro di squadra e quello che dobbiamo fare adesso, come ho detto in queste settimane, è continuare, così come è fatto in questi anni, a rendere la nostra città sempre più bella, decorosa, inclusiva e sicura. Ho parlato di tanti elementi che rendono questa vittoria ancora più importante e questo è uno di questi elementi. Sono davvero felicissimo che la nostra lista, la mia lista, la lista Montesilvano Scegli, da come mi dicono, stia facendo un grandissimo risultato. Intanto sono felice per tutti coloro che la compongono, che ho scelto singolarmente uno ad uno, valutando competenza, affidabilità e serietà. E sicuramente in termini politici, questa è una risposta forte a chi non ha voluto che io rappresentassi una casa. Adesso la mia casa è Montesilvano Scegli e sono felicissimo di avere questa casa e di poterla rappresentare e soprattutto di esserne rappresentato. De Martinis, sarà una consigliatura breve, due anni e mezzo, 2027 la grande Pescara, Montesilvano che ruolo giocherà? Con me sicuramente un ruolo da protagonista, come è stato in questi cinque anni, abbiamo lottato con le unghie affinché il percorso di fusione potesse avere Montesilvano al centro del progetto e non come comprimario, come così qualcuno nell'idea iniziale probabilmente aveva pensato. La visione pescarocentrica non è una visione funzionale al territorio, non è una visione giusta peraltro. Montesilvano ha tanti aspetti per i quali può davvero dare tanto in un'ottica futura, allargata. Mi auguro che il lavoro prosegua così come è stato portato avanti in questi anni e perché no, mi auguro pure, questo lo dico, che come detto da tempo la fretta non sia cattiva consigliera e ci si dia modo di lavorare in maniera ponderata e giusta per arrivare davvero a creare benefici al territorio e non documento, come a mio avviso ho sempre detto, succederebbe qualora il tempo sarebbe utilizzato soltanto considerando le lancette dell'orologio. Sicuramente dall'ottimo lavoro fatto, come ho detto in queste settimane, abbiamo iniziato un percorso cinque anni fa, abbiamo tanto da concretizzare perché soprattutto per quello che riguarda il PNRR c'è una data di scadenza, quella del 2026, entro la quale spendere tutti i milioni di euro, tantissimi milioni di euro che siamo riusciti a intercettare, ma solo una minima parte sono stati portati a compimento, sono pochi i soldi spesi e quindi concretizzati. Dobbiamo ripartire soprattutto da lì, oltre che a regalare, sono certo ai tantissimi turisti e visitatori della nostra città, un'estate fantastica, abbiamo già fatto tanto, continueremo nei prossimi giorni a far trovare, e insomma nelle prossime settimane a tutti coloro che sceglieranno Montesilvano, quale meta delle loro vacanze, una città decorosa, pulita, attrattiva, così come è giusto che sia. Pronta per la bandiera blu? Assolutamente sì, quest'anno è l'anno buono, ho sempre detto che era un obiettivo che ci avevamo prefissati, ma a causa del mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata, solo quest'anno avevamo raggiunto tutti gli elementi. Il prossimo anno sicuramente Montesilvano potrà sventolare la bandiera blu, che è l'ultimo vessillo che le manca, dopo quella gialla e quella verde. De Martini, se si aspettava dei numeri così ampi rispetto al suo avversario? In questa settimana ho giocato in lungo e in largo la città, sia per motivi istituzionali, ma soprattutto elettorali, e avevo percepito che ci potesse essere questo risultato, attraverso l'affetto e la stima che la gente mi ha manifestato, ma soprattutto ancora più orgoglioso, perché la gente mi ha dato davvero un credito relativamente a quello che è stato fatto, come dicevo prima. Hanno apprezzato tanto il lavoro che è stato fatto, e questo mi faceva presagire un risultato importante. Siamo andati oltremodo bene, siamo andati al di sopra delle più rose aspettative, e questo mi inorgoglisce, ma soprattutto mi dà una carica in più per continuare il lavoro da sindaco, insieme a tutti coloro che faranno parte del Consiglio Comunale. Ovviamente ringrazio tutti i candidati che si sono spesi per far sì che questo risultato fosse così ampio, e mi auguro davvero che con loro si possa continuare un percorso di crescita della città, così come è stato in questi cinque anni. Le Martinis, Montesilvano, località turistica, una grande ricettività, mare sì, ma bisogna destagionalizzare, e allora su cosa puntare? Ma in realtà abbiamo fatto tanto in questi anni rispetto a questa destagionalizzazione. Non a caso Montesilvano, rispetto al passato, non ha raggiunto le 700.000 presenze, tante delle quali non spalmate sul periodo più prettamente estivo, quindi luglio-agosto, ma ha lavorato affinché si potesse con degli eventi, con delle manifestazioni sportive, anche mondiali, creare i presupposti per destagionalizzare. Dobbiamo continuare così, con tutta una serie di azioni che abbiamo portato avanti dall'inizio del mio mandato, quindi potenziare i luoghi dove poter creare i presupposti per eventi importanti. Il Parlamento di Martinis sicuramente è stata una grande vittoria da questo punto di vista, ma stiamo lavorando anche per altri spazi che sicuramente aiuteranno e riusciranno appunto a creare i presupposti per destagionalizzare. Al suo competitor che messaggio vuole lanciare? Ma da Dazio posso lanciare solo un messaggio. In questi giorni si è sforzato di far credere alla gente che era il caso di fare. Ebbene, la gente probabilmente ha risposto per me. Il Sindaco di Martinis ha fatto, e anche tanto, e merita di continuare questo percorso. Quindi grazie ai cittadini che hanno risposto con i fatti e con i numeri a quanto invece in questi giorni è stato, a mio avviso, anche follemente detto. Perché la cosa che più mi è dispiaciuta di questa campagna elettorale è non percepire dall'altra parte un'idea che sia un'idea da prendere anche in considerazione. È stato un denigrare continuo relativamente a un lavoro invece ottimale che è stato fatto, ma per fortuna la gente non è stupida e per fortuna la gente ha risposto così come dicevo. Sarà facile fare l'aggiunta o qualche scoria del recente passato potrebbe restare? In questo rapporto con la Lega resta un po' ambiguo. Ma io penso che, insomma, come sempre si prenderanno in considerazione i numeri. E i numeri sono sempre un fattore che deve essere preso in considerazione quando si compone l'aggiunta. E sulla base di questi numeri poi ragioneremo le migliori potenzialità all'interno delle varie liste. Questo e solo questo porterà al completamento dell'aggiunta, secondo anche dei criteri che sono, al di là di questo, poi anche dei criteri di natura personale. Io conosco uno per uno tutti i candidati e tutti coloro che con me hanno svolto in questi anni un ruolo all'interno del Comune. Quindi so di ognuno le potenzialità, le competenze, conosco quello che hanno fatto e quello che possono fare. E sulla base di questi requisiti io poi mi siederò già nei prossimi giorni, anche con i partiti che compongono la coalizione, per creare appunto la migliore giunta possibile. Sembra di capire che non ci sarà una grande rivoluzione. Ma dipende sempre dai numeri. È evidente che se i numeri mi daranno nominativi o persone che sono diverse da quelle che ci sono state, è normale che io dovrò prendere in considerazione. Però da quel che mi giunge non ci saranno grandi stravolgimenti perché tanti di coloro che con me hanno portato avanti questo bellissimo quinquennio e questa bellissima azione amministrativa, tanti sono stati riconfermati. Quindi probabilmente ci sarà qualche aggiustamento, qualche modifica, ma il grosso potrebbe essere già fatto. Lei vorrebbe essere il primo sindaco della nuova Pescara? Ah, questa è una domanda un po' prematura. Io, come sempre ho fatto, mi metto a disposizione della città, del territorio. Qualora la città, il territorio e anche la politica decidessero di darmi anche quest'ulteriore opportunità, io la prenderò in considerazione. Oggi penso a lavorare per Montesilvano e anzi, come detto tante volte, io penso a rendere grande Montesilvano più che a pensare a fare grande Pescara. Con tutto il rispetto per una città che peraltro mi ha visto studente, mi ha visto crescere e a quale tutti siamo affezionati. Noi però siamo Montesilvano, abbiamo tanto da dare, abbiamo una storia, abbiamo un territorio bellissimo, abbiamo tanti cittadini che hanno dimostrato di saper reagire alle difficoltà e quindi andiamo avanti per rendere questo sempre più visibile a tutti e sempre più importante. Sicuramente uno è chiudere nel 2026 il lavoro relativo al PNRR, l'ho detto perché c'è una scadenza perentoria, quindi dentro quella scadenza dobbiamo portare a compimento tutte le opere sul territorio. Due, arrivare al 2027, anno dentro il quale si dovrebbe chiudere il cerchio di Nuova Pescara con una Montesilvano che reciti un ruolo da protagonista e per quello che riguarda l'estate, visto che si parla di estate, sicuramente assicurare ai nostri cittadini e ai tanti turisti che raggiungeranno Montesilvano il meglio in tutti i settori della nostra vita e sul nostro territorio. E poi toccherà la Stella Maris. La Stella Maris ha già un destino, lo voglio ribadire, e sono felicissimo. Probabilmente durante il mio mandato, benché in un altro ruolo, il ruolo di Presidente della Provincia, questa è una delle cose di cui vado più fiero. Dopo tantissimi anni abbiamo trovato una strada, una vita nuova per la Stella Maris e il progetto, peraltro, già presentato dall'Università è quello che si sta prospettando, è qualcosa di davvero meraviglioso da un punto di vista culturale ma anche da un punto di vista turistico. Penso che migliore soluzione non ci potesse essere. Abbiamo tutti i pareri necessari, perché c'è stato un mese fa il parere dei beni ambientali e adesso siamo pronti, o meglio, l'Università è pronta a iniziare i lavori che dovrebbero iniziare, sentito il Rettore qualche giorno fa, in autunno. Quindi nel giro di un anno tutte le incompiute di Montesilvano, tutte opere, peraltro, che mi hanno visto bambino frequentarle, Villa Delfico, che è stato il mio asilo, ma anche la Stella Maris, dove io praticamente sono cresciuto a ridosso di, essendo di Villa Verrocchio, saranno portate a compimento e questo è veramente qualcosa di grandioso di cui vado veramente orgoglioso.